allora buon pomeriggio a tutti quanti ragazzi benvenuti sul canale gameplays 1973 channel un saluto al vostro amico salvo faccio questo videoclip per i vostri messaggi che mi state mandando ragazzi e per il fatto perché voi sapete che io posso portare un certo numero di giochi mi avete fatto una lista di giochi del mese di ottobre novembre dicembre quale portare ragazzi e già ve l'avevo detto non una ma più volte questo piccolo canale porta al massimo quando va bene in un mese due giochi quando va bene quando va male ne riesce a portare solo uno io che cosa vi ho detto se voi volete che io porti più giochi il modo migliore per aiutarmi e seguire le mie live se il mio canale non trovate nessun link donazione perché l'ho tolto non lo voglio non mi serve trovate solo la super chat oppure chi è che vuole fare una donazione mi può contattare tramite facebook via messager io ne ho avuti pochissimi regali però va bene non importa io non ci campo con youtube io seguo solo la mia passione voi lo sapete quindi vi ho detto ve lo ripeto volete che io vi porti altri giochi l'unico modo è seguirmi quando vado in live piondatevi farmi compagnia un'ora mezz'ora dieci minuti quello che volete più siamo meglio è più giochi io posso portare e più vi posso accontentare è già tanto che siamo riuscito a prendere studenti di due reme che grazie a voi e io vi ringrazio sempre non so se riuscirò a portare anche l'altro terminato survival ma forse ce la facciamo perché è un gioco è un gioco indie non è un gioco tripla quindi costano un po di meno quindi ce la dovrei fare gli altri giochi lo sapete come funziona sul mio canale se voi mi date la mano io vi accontento riporto tutto qua ragazzi quindi non è che perché non voglio rispondere tutti i messaggi che mi arriva che mi arrivano voi sapete che nel bene nel male risponde a tutti quanti nel limite nel mio possibile e ve l'ho detto ragazzi mi viene accostato un sacco di soldi se io vi dovrei accontentare invece a voi che non costa nulla lasciano un like un commento una condivisione guardate nei miei live non mi costa nulla è gratis e mi potete aiutare in questo modo quindi vediamoci incontro volete che io porto altri giochi sapete quello che dovete fare ok pubblico nuovamente questa videoclip che ne ho già pubblicato e altro simile a questa e sono sempre ansioso di leggere i vostri commenti che non commentate mai però va bene ok io vi saluto vi auguro un buon pomeriggio ciao alla prossima ragazzi